Ciao Andrea, sono Davide Barbieri, Mobility Manager dell'Università di Pavia e oggi parleremo di mobilità sostenibile in tempo di coronavirus. Con me c'è Andrea Zatti, Delegato del Rettore per la Sostenibilità, a cui farò alcune domande proprio sul tema della mobilità sostenibile in questa fase di transizione, in questo momento, e poi di apertura della fase di ripresa. Ciao Andrea. Ciao Davide, grazie di questo invito e di questo colloquio. Grazie a te, grazie a te Andrea della disponibilità. Senti Andrea, la prima domanda che ti faccio è molto generale, diciamo così, per introdurre un po' l'argomento. Quali sono state, dal tuo punto di vista, le principali criticità che si sono registrate in questa fase, sia in Italia, ma sia magari anche con un respiro un po' più internazionale sulla mobilità sostenibile dovuta proprio alla pandemia che si è avuta da febbraio ad oggi e poi appunto che proseguirà, non si sa ancora bene per quanto tempo. Sì, è chiaro che si è manifestato in primo luogo un effetto anche molto spettacolare di caduta dei volumi e di riduzione anche di tutta una serie di implicazioni negative collegate ai trasporti. Questo ha fatto capire a molti anche in qualche modo come il concetto di sostenibilità poi sia un concetto che mette insieme esigenze economiche, sociali ed ambientali. E chiaramente la situazione durante il lockdown non è una situazione che si è venuta a creare, non è una situazione sostenibile. Il rischio in chiave dinamica in questa transizione appunto tra quella che adesso viene chiamata fase 2 e poi quella che sarà in uno scenario molto incerto la stabilizzazione nella fase 3, nello scenario definitivo, il rischio più forte è quello che si vada a interrompere un po' quel processo che faticosamente si era attivato prima di riequilibrio modale all'interno dei trasporti e in particolar modo dei trasporti urbani, cioè faticosamente si erano messe in atto tutta una serie di politiche, diciamo schematizzando volte a ridurre il ruolo dell'auto che è comunque un ruolo ancora decisamente preponderante, in particolar modo negli spostamenti sistemici e a incrementare invece il ruolo del trasporto pubblico e dei mezzi non motorizzati o della cosiddetta mobilità dolce. La vera criticità quindi potrà essere quella di interrompere questo processo che peraltro era tutt'altro che portato a termine e che l'auto torni a riacquisire il primo posto nelle preferenze. Perché questo? Perché ovviamente dal punto di vista in particolar modo degli aspetti sanitari, del distanziamento, l'auto appare almeno in prima battuta come la soluzione maggiormente proteggente da un certo punto di vista e quindi può avere un vantaggio nelle scelte, nelle preferenze degli utenti. A scapito di chi, ma è chiaro che in questa fase la situazione più critica è quella del trasporto collettivo che proprio per definizione è un trasporto caratterizzato dalla estrema prossimità degli utenti in particolar modo nelle ore di punta mattutine. Quindi con gli attuali standard che vanno dal 30 al 50 per cento è chiaro che il trasporto collettivo fa fatica e farà fatica a riassorbire già solo le quantità a cui era abituato prima della crisi. Questo quindi chiaramente costituisce un grosso problema. Ecco, ma scusa se ti interrompo Andrea, ma ne approfitto per chiarire un punto che secondo me è importante. Posto che in questa fase di chiusura, insomma di lockdown e di una fase di riapertura molto parziale, se vuoi, questo problema non si è ancora sentito a livello forte perché appunto la maggior parte dei lavoratori in università soprattutto la grande quantità di persone che sono appunto i nostri studenti proseguono attività a distanza. Secondo te, nella fase invece appunto di possibile riapertura o comunque riapertura in maniera più forte a partire dal prossimo autunno, quali secondo te potrebbero essere le soluzioni da adottare tempestivamente per evitare proprio un ritorno a un passato che vorremmo scongiurare il più possibile, quindi a un ritorno all'uso sconsiderato e comunque molto forte del mezzo proprio. Ecco, io penso che vada messo in campo, fortunatamente come dicevi tu correttamente per quanto riguarda la situazione pavese c'è un po' di tempo perché realisticamente tenuto conto dell'effetto congiunto di scuole superiori e studenti universitari che costituiscono veramente la quota assolutamente preponderante della mobilità in ingresso mattutina, soprattutto nelle ore di punta. Ecco, fortunatamente c'è un po' di tempo per pensarci e per mettere in atto delle misure prima dell'autunno, prima della ripresa diciamo di metà settembre, fine settembre. Penso che la logica dovrà essere quella del pacchetto di misure, cioè nessuna misura ha la possibilità di risolvere una situazione così complessa. Quindi secondo me in maniera schematica innanzitutto va comunque difeso, preservato, soprattutto nella fase di transizione il trasporto collettivo, cercando di mettere qualche risorsa in più, di intensificare le corse, pur nella consapevolezza che le corse sono anti-economiche in questa fase perché già il trasporto collettivo fatica a coprire i costi, figuriamoci in una situazione di traffico, di raddoppio delle frequenze e di riduzione dei carichi in termini di passeggeri. Poi vi è il tema cruciale, soprattutto appunto per la mobilità interna, per la mobilità universitaria, per la mobilità giovane dei mezzi non motorizzati. È chiaro che la sfida dovrà essere quella di fare in modo che una parte, quella parte eventuale più o meno ampia che viene spinta a non utilizzare il trasporto collettivo, venga in prevalenza, se non addirittura nella totalità, riassorbita dai mezzi non motorizzati. Questo soprattutto per quei tragitti, per quei flussi che a Pavia sono dominanti e stiamo parlando soprattutto del rapporto tra la zona stazione, tra la zona centro e la zona nord-ovest, che è quella che ormai assorbe la preponderante parte delle nostre attività. Quindi è un po' lì che si gioca la sfida ed è lì che l'interazione anche con le autorità cittadine diventa molto importante, perché questo è il momento di dare seguito a quell'esigenza che ormai da più anni è manifestata di avere percorsi ciclopedonali continui, visibili, anche da un punto di vista simbolico, fortemente continui tra il centro e questa zona nord-ovest. Mi verrebbe da dire se non ora quando, perché se come da più parti si sente la pandemia deve stimolare soluzioni nuove, reazioni e iniziative che fino adesso non erano state messi in atto, direi che questo è un banco di prova per la città e per la mobilità. Un ultimo elemento su cui secondo me come università dobbiamo sforzarsi da ragionare ulteriormente è quello di scommettere ancora di più e quindi attivarci ancora di più sulla logica di Pavia Città Campus, cioè fare in modo che una quota ancora maggiore di nostri studenti diventino studenti residenti. in Tiappavia residenti in senso lato, quindi anche come fuori sede, che però vivono e stanno in città nei collegi, riempiendo tutti i collegi, ma anche progressivamente cercando di fare in modo che una quota aggiuntiva occupino le case, le residenze e tutto ciò che c'è, perché quanto più si portano gli studenti a non essere pendolari e a vivere in città, quanto più si hanno effetti positivi in termini di riduzione della mobilità, in termini di riduzione delle emissioni, ma anche di effetti economici che questo genera sul sistema territoriale. Grazie, grazie Andrea, mi sembra che hai fatto una disamina molto, molto accurata, puntuale e proprio in linea con quello che sinceramente penso anche chi ci ascolta si aspettasse assolutamente. Quindi se posso riassumere brevemente, potrebbero essere, visto che tirando una sorta di specie di conclusione di questa nota chiacchierata, potrebbero essere tre le direttive forse principali su cui puntare anche in futuro e diciamo così far tesoro di quello che purtroppo la pandemia ha rappresentato, ma cercando appunto di vedere anche il bicchiere mezzo pieno, trovare soluzioni alternative possibili perché la mobilità sostenibile non solo possa continuare il suo percorso, ma anzi addirittura lo rafforzi sempre di più. Se ho ben capito, anche grazie alle caratteristiche peculiari di Pavia come città universitaria, città campus come tu giustamente dicevi, si potrebbe pensare innanzitutto appunto a una maggiore stanzialità dei studenti, quindi a far diventare ancora più campus Pavia rispetto a quello che era prima della pandemia, quindi ad aumentare, a rafforzare la capacità di residenzialità di questa città che vive di università, perché l'università insomma è una delle principali, delle tre principali componenti insomma della nostra città, quindi appunto un aumento della residenzialità, un modo di rivedere l'attività lavorativa che vuole anche essere maggiormente spalmata sulla settimana, sugli orari di lezione, di frequentazione degli ambienti e come terzo punto che riguarda magari più il personale che non gli studenti, è anche quello di aumentare comunque, mantenere comunque alta una quota di telelavoro o comunque di lavoro a distanza, che permette sicuramente in particolare ai lavoratori che arrivano da più distante, quindi a quelli che sono i pendolari giornalieri, di poter rimanere il più possibile a lavorare presso la propria abitazione, non andando a congestionare, a far pressioni sul sistema di trasporto né pubblico né tantomeno privato. A questo poi, scusa Andrea, a questo si aggiunge poi il terzo elemento che è appunto più territoriale, che appunto tu ricordavi, cercare di aumentare la quota di micromobilità, insomma di mobilità a piedi, in bicicletta o sui monopattini elettrici, ma questo comporta necessariamente dal mio punto di vista, ma penso anche dal tuo, uno sforzo da parte anche degli nostri enti territoriali di proseguire, di aumentare, di rafforzare le ciclovie e le vie pedonali in maniera sicura, perché poi il nostro utente utilizza molto bene vie ciclabili o pedonali, però devono essere ovviamente fatte e usate in totale sicurezza. Assolutamente e penso che questo, riallacciandomi a quest'ultimo aspetto, a queste tue considerazioni, quindi la componente tempo che tu hai rimarcato è una componente fondamentale, quindi ragionare sui tempi della città e ragionare sui tempi delle nostre scelte e delle nostre funzioni è molto importante, soprattutto per gli studenti che determinano veramente afflussi numericamente molto importanti. L'altro elemento che spero venga in qualche modo spinto dalla crisi è questo dell'interazione, della collaborazione e se vuoi anche dell'assunzione di responsabilità a livello cittadino. Questa è una città in cui il coordinamento di 4-5 operatori principali, ovviamente fatto e capeggiato in qualche modo dal comune, ma attraverso il coinvolgimento di ospedali, nucleo degli ospedali, università e alcune altre istituzioni pubbliche, veramente si potrebbe immaginare un disegno molto più razionale e sostenibile della mobilità urbana. Quindi il mio auspicio è che si riattivi di fatto questo tipo di collaborazione e di interazione che poi dovrà confluire in quello che è lo strumento cardine, che è il piano urbano della mobilità sostenibile, perché questo strumento è rimasto in gestazione di fatto per 4 anni nella scorsa legislatura senza mai avere definitiva aduazione e approvazione, quindi penso che in questa fase, ma soprattutto nella fase a regime, tutti questi sforzi, tutte queste idee, tutti questi processi debbono poi coinvolgere in uno strumento che è quello che poi deve governare il sistema della mobilità urbana. È chiaro che il comune è l'ente principale, ma io penso che dalla nostra parte, come stakeholder importante, abbiamo un ruolo sicuramente non marginale nello stimolare, proporre, assumerci responsabilità. Perfetto, direi che possiamo chiudere qui. Grazie mille Andrea per la disponibilità e delle parole che ci hai dato. Grazie a te Davide, insomma cerchiamo di portare avanti il tema insieme. Certo, certo. Grazie Andrea, ciao alla prossima. Ciao, ciao ciao.